Sono Michele De Ledda e sono il più giovane dei costruttori, ho quasi 19 anni. Questo è già il secondo anno che concorro nel Carnevale di Viareggio. Sono entrato qua dentro grazie alla scuola della Cattapesta, sempre letto rivisti del Carnevale, compravo le cartoline quando ero piccolo. In casa facevo tutto il giro con le cartoline per terra, facevo finta di fare il corso. E' uguale che costruivo con i giocattoli, i carri. La scuola è un capitolo un po' chiuso, però ho fatto fino al secondo anno al liceo artistico a Pietrasanta, poi dopo ho chiuso per vari motivi. L'anno scorso è stato appunto il primo anno e sicché non avevo neanche l'esperienza che ho avuto quest'anno. Quindi quest'anno ho puntato molto sulla modellatura, sul colore. C'è stato un miglioramento, diciamo che è su questo lavoro che volei tutto investire.